Siano lodati Gesù e Gesù. Cari fratelli e sorelle, quest'oggi, ottavo giorno della novena, meditiamo sulla virtù della Letizia. La virtù della Letizia non è l'allegrezza esterna e falsa dei mondani che consiste nell'immaginazione e nei sensi, ma non giunge al fondo del cuore. Questa allegrezza mondana, in realtà, porta all'anima una tristezza, un peso che non può sopportare. Tale mondana allegrezza, fugace, passeggera, insieme bugiarda e ingannevole, è quella che Cristo condannava con quelle dure parole. C'è tra voi chi per ora ride, ma un giorno piangerà. La vera allegrezza è quella dello Spirito che procede da un cuore retto e tranquillo, dalla buona coscienza di chi adempie la volontà di Dio. Quale pura e intensa allegrezza sgorga dal compimento esatto della volontà di Dio, è la fonte dei maggiori godimenti. Questa allegrezza è uno dei frutti più belli dello Spirito Santo, che tanto contribuisce a facilitare il cammino della perfezione e l'esercizio di tutte le virtù. Non è possibile arrivare a comprendere il grado di allegrezza tanto santa che inondava il cuore della Santissima Vergine. È vero che fu un mare di amarezza, ma fu anche immenso oceano di pace, tranquillità e gaudio nel Signore. Pensa alle purissime allegrezze che inondarono l'anima della Vergine a Betlemme, a Nazareth, durante tutta la vita pubblica e privata di Gesù. Gli incanti e le grazie infinite di Lui bambino, la Sua predicazione e i miracoli portentosi, la Sua gloriosa risurrezione e l'apparizione alla Madre Sua, la Sua trionfale ascensione al cielo, non l'avrebbero fatta morire di allegrezza se Dio non l'avesse sostenuta? Un santo non può che essere allegro. Santa Teresa del Bambin Gesù si sforzava di soffrire con tanta allegrezza che voleva arrivare persino a ingannare lo stesso Gesù perché non conoscesse la sua sofferenza. Quale allegrezza più grande della nostra per essere stati scelti per amare e servire Dio? Perché dovremmo essere tristi? No, non bisogna rendere triste la virtù. Questo è l'artificio di Satana per renderla repulsiva. Anche la virtù sotto questo aspetto deve presentarsi qual è, con il fascino della gioia, santa e vera, di cui è sempre rivestita. Non ti fidare dunque di virtù e santità che non abbia questa nota tanto caratteristica. La Madonna è la causa e la ragione della nostra allegrezza, così come preghiamo nelle litanie lauretane. È lei che ci dona questa grazia. Il segreto della nostra felicità consiste nel vivere uniti alla Madre nostra nell'intimo raccoglimento dell'orazione. Quindi, devozione alla Madonna e preghiera continua. Ecco il segreto della nostra felicità. Suor Consolata Betrone, pur nelle difficoltà di ogni giorno, visse nella letizia. E questa gioia, ovviamente, le proveniva dalla sua incessante preghiera. Così scriveva Più sono fedele a questa piccola via d'amore, e più l'anima mia è inondata di gioia, di pace vera, Che niente riesce a turbare, neppure le continue cadute che, portate a Gesù, me le fa riparare con atti di umiltà Che alla loro volta aumentano la pace e la gioia del cuore Ciò che portava al colmo la gioia di Suor Consolata Era la certezza che ogni atto d'amore dura in eterno, non verrà mai meno Così, infatti, scriveva Come mi deve rendere lieta, attiva e vigilante la certezza che ogni mio atto d'amore dura in eterno Inoltre aggiungeva La gioia più grande che si può gustare sulla terra è possedere Dio, ma Dio solo Allora si gode un paradiso anticipato e le piccole anime lo godono Una delle prime parole di Gesù a Suor Consolata è stata questa Amami e sarai felice, e più mi amerai e più sarai felice E ciò sempre, nella luce o fra le tenebre di spirito Anche quando sarai nelle tenebre fitte, l'amore produce luce, l'amore produce forza, l'amore produce gioia Così Gesù, inoltre, le diceva Se tutte le mie spose mi amassero, verserei sulla terra, nei loro cuori, il paradiso Perché il paradiso si gode nell'amarmi Se tutte le anime comprendessero questa verità E se la comprendesse anche questo povero mondo Che per essersi allontanato da Gesù Ha smarrito la via della sua vera ed unica felicità E infine Gesù le diceva O se mi amasse, quanta felicità regnerebbe nel mondo così infelice E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con la preghiera della novena Ave, graziosa e santa bambina Spirituale paradiso di delizie Ove nel dì dell'incarnazione fu piantato il vero albero della vita Il salvatore del mondo Aiutami a innestare nell'anima mia i pensieri Gli affetti, le virtù del tuo figlio divino Frutti suavissimi di vita immortale Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte Amen Maria, bambina, prega per noi Amore, bambina, prega per noi Amore, bambina. Amore, bambina. Amore, bambina. Amore, bambina. Appomm anna e via.